signori ma soprattutto signore eccoci qua finalmente è arrivato il nexus 5 e come sempre antonio e antonio stanno qua pronti per farvi rinquadra la mia maglia a un attimo perché sennò chi lo senta cagliazza e ma bre per l'occasione ecco qua sta tutto pronto guardate la faccia è la solida di cazzo qui allora unboxing originale guardate non l'ho neanche aperto per aspettare il signore qua che venisse a casa mia come alcuni siti no come i siti che fanno finta eccolo qua cartaccio non ce ne frega una mazza ecco il nostro bel pacchetto piccola cosa che mi ha dato fastidio che ci potrebbero mettere un pezzettino di polistirolo dentro ah vabbè sono troppo piti questa è la fattura oltre del cartaccio fattura si tiene la davanti fattura la conserviamo a futura memoria lo scatola che non serve il classico scatolo delle ultime serie nexus lo apriamo subito senza aspettare me più bello il mio nexus 4 butta butta sto cesso già kit cover il legno allora leviamo pure quest'altra sicurezza qua ora bellino la bellino e quello che conta non la vedremo più sta scatola andrà in un cassetto eccolo qui come lo fa eccolo qui bellissimo già subito al primo impatto va bene siamo drogati quindi seppur era un cesso era bellissimo guarda vediamo che c'è scena confezione il piccolo pin per inserire la micro sim è diverso da quello del 4 guida rapida sicurezza e garanzia cavo usb e carica batterie quindi non abbiamo beccato la versione francese da dove sembra uscissero pure le cuffiette però ce ne freghiamo altamente capirai tempo le cuffie della carica batterie e usb poco ci frega andiamo al soto allora faccio toccare di sì certo ma che dici bella bella gommatura una bella gommatura davvero ma per i fatti vedi nexus che è scavato dentro nexus scavato dentro e lucido la plastica è proprio tipo una plastica gommosa non morbida naturalmente sempre rigida però fa un bel grip no no già sento subito una sensazione di solidità che sostanzialmente uno dei vantaggi del one body insomma della batteria non rimuovibile sostanzialmente prima prima ancora di accenderlo facciamo subito una piccola comparativa col nexus 4 di antonio allora grosso modo le dimensioni sono sono uguali non c'è la cornice vabbè allora forse davvero leggerissimamente più sottile il nexus 5 di 1 2 millimetri forse leggermente più leggermente più alto più lungo gli angoli sono un po più squadrati rispetto al nexus 4 e come larghezza ci siamo la larghezza mi sembra proprio uguale andrò sto vedendo al tatto i tasti che dicono in ceramica vediamo un attimo ok buttiamo il cesso di nexus 4 tasti in ceramica boh non è che si noti chissà che di particolare però è lucido sì sono lucidi effettivamente e magia il ticchettio forse non si sente dopo non ce l'ha sorpresa no no perché molti hanno lamentato il ticchettio dei tasti oppure addirittura qualcuno del modulo fotocamera molto probabilmente lo stabilizzatore ottico che si muove però accendere non sento niente la plastica non ce la tolgo ancora anche perché la simul ho appena attivata la sim vodafone naturalmente mi dicono entro 48 ore per il passaggio cominciamo ad accenderlo quindi non gliela toglie la pellicola davanti no per ora no aspetta un attimo e che ti ami adesso dovrebbe partire dovrebbe rilevare subito un aggiornamento almeno da quello che abbiamo visto dalle prime dei primi unboxing e recensioni insomma l'animazione è quella la dei dei quali dei google experience c'era anche la s4 e la htc one proprio bello la fatto che non c'è la cornice forse magari sai qualche graffio effettivamente la cornice è proprio a filo diciamo col vetro vediamo se si riesce a vedere che non c'è proprio è fatta con galaxy nexus riprese fatte con galaxy nexus il vetro è proprio a filo con la cornice sicuramente esteticamente più più bello insomma anche funzionalmente forse per fare gli swipe però l'unica cosa l'unica cosa è che quel millimetro di bordo che sporge dal vetro molte volte salva il display in caso di caduta invece quello del nexus 4 qua è curvo è curvo che è ancora più facile per fare gli slide allora naturalmente non rileva la lingua non essendoci la sim andiamo a scegliere l'italiano mettiti come due mentre la metto dietro di te bastardo ok italiano partiamo con la configurazione vabbè naturalmente ci chiede la sim noi ignoriamo selezione wifi dovrebbe rilevare il mio wifi di casa eccolo qui nervo assurdo per gli amanti di evangelion che capiranno ah com'è bello sentire di nuovo la vibrazione quando si digita io c'ho il galaxy nexus senza vibrazione da almeno 5 6 mesi e dopo di più forse ok solo un secondo sta cominciando a scambiare i dati con google ecco qua l'update di 139 megabyte e rotti sostanzialmente sui nexus 5 è stata installata una versione di kitkat prevendita insomma preliminare presumo quindi sempre 4.4 e in modo da da accelerare la produzione insomma la con il confezionamento e tutto il resto vabbè lanciamo lanciamo l'update subito con la speranza che faccia presto fino a cinque minuti se fino a cinque minuti dipende dal wifi io c'ho un bel wifi merdoso di tiscali che penso impiegherà almeno 20 minuti una mezz'oretta comunque non lo so diamo qualche altra impressione poi se si aggiorna presto facciamo facciamo qualche qualche altro focus l'altoparlante che mi sembra leggermente rientrato come vedo e ci sono dei piccoli forellini si vede un po diciamo è un po diverso dallo standard circolare c'è una una piastrina con dei forellini piccolissimi è leggermente rientrato nella cornice l'unica cosa è che il fatto che è rientrato spero che non fa la fine del nexus 4 dove si accumula si accumulerà un bel po di sporcizia la dentro vabbè speriamo di no speriamo di no il display così a primo impatto senza vedere più di tanto non mi sembra male mi sembra un bel display io che sostanzialmente sono terrorizzato dai display lcd perché sono un amante degli amoled però non mi sembra malaccio naturalmente faremo delle verifiche più accurate confrontando sia col nexus 4 e se riusciamo pure col galaxy nexus anche se c'è ormai un display che è andato il vitro qua sembra che c'è una pellicola si la fotocamera è leggermente sporgente infatti una delle mie preoccupazioni era che dondolasse appoggiata una superficie vediamo un attimo effettivamente la fotocamera abbatte prima e lo rialza un po però diciamo che il fatto che si gratta il vitro si anche questo anche questo ci sarà sicuramente un problema sì il quattro latino abbaccia un piccolo dondolivo tutto a posto l'ultimo solo allora scusate la piccola interruzione ma è venuta mia madre che ha portato il cibo per i porci cioè il il cameraman qua che va a confetti allora stavamo dicendo sì del vetro fotocamera che purtroppo è la prima parte che poggia sulle superfici quindi ci bisogna starci attenti io intanto ci devo pure subito la pellicola perché qua ce la posso levare via la pellicola partiera il led invece a filo con con la scopla logo lg sono sorpreso davvero della cosa che i tasti non non fanno rumore perché hanno detto tutti quanti che sentivano un ticchettio fatto che è rigido è bello solito fotocamera anteriore abbiamo detto speaker e qui ci sono sensori di luminosità e prossimità suppongo in questa zona dovrebbe esserci anche il sensore per le smart cover il sensore magneto non lo so come diamine si chiama quello per le cover magnetiche che aprendo si si attiva automaticamente lo schifo l'update come potete vedere sta grosso modo a un quarto facciamo vedere pure lo sportellino ci vogliamo mettere la sim ma anche se non è ancora attiva un attimo che la piglio facciamo aperta sennò dura un'ora questo un boccasino forse è meglio spegnerlo per mettere la sim ma non la mettiamo dai non la mettiamo no infatti facciamo vedere solo come si apre il 3i premere leggermente qui non succede niente premiamo con un po' di forza curate il 4 avendo il lungo vabbè è uscito questo è il cassettino per la sim si estrae si mette la sim si rimette dentro no ficchiamolo opposto avevo letto che forse a qualcuno non si richiudeva bene o comunque non era a filo a me mi sembra che sia ben messa se siamo fortunati anzi se sono fortunato ho beccato un bel pezzo senza senza problemi va bene direi che come unboxing l'abbiamo fatto vi salutiamo e ci sentiamo a breve per un altro video col telefono funzionale con la cromcast ah poi c'è pure la cromcast la faremo qualcosa anche per la cromcast ciao da Antonio e Antonio